Ho ritagliato un pezzo di stoffa che è largo 22 cm e alto 26 cm in base alle misure della mia borsa e in base anche alla cerniera. La cerniera è 16 cm, l'ho dovuta accorciare leggermente perché altrimenti veniva tutto troppo grande per la misura della borsa. Quindi la misura della cerniera è 16 cm e la misura della larghezza della tasca è 22 cm, quindi 6 cm in più rispetto alla lunghezza della cerniera. Ora dobbiamo andare a rinforzare la tasca e ho ritagliato della stessa identica misura la fliselina. La fliselina ha questo lato più lucido dove c'è la colla e il lato più opaco. Noi dobbiamo andare a posizionare la parte lucida con la colla sul rovescio del tessuto. Lo posizioniamo e andiamo con il ferro da stiro a attaccare la fliselina al tessuto. Il ferro da stiro non deve essere posizionato proprio sul minimo ma comunque con una temperatura abbastanza bassa. Allora, siamo e ecce Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io vado a posizionare sul dritto la tasca, la posizionare e a centrare. Anche in questo caso io ho la stoffa quadrettata perché mi viene più semplice centrarla perché mi basta contare i quadratini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e quindi mi devo leggermente spostare. A questo punto vado a cucire, vado a fare una cucitura. Partendo da un angolo arrivo all'angolo opposto che è questo. Noi queste linee laterali non le dobbiamo più considerare. Quindi noi dobbiamo fare una cucitura da qui a qui, scendiamo lungo questo tratto verticale, poi dobbiamo fare da questo angolo a questo angolo qui e poi risaliamo facendo questa linea verticale. Quindi noi dobbiamo fare una cucitura da qui, scendiamo la cucitura, e quindi noi dobbiamo fare una cucitura. A questo punto, fatta tutta questa cucitura, vado a tagliare da qui, da questo punto, dal vertice del triangolo fino all'altro vertice e poi devo fare i due lati del triangolo, quindi taglio qui e qui. Stiamo attenti a non tagliare la cucitura. Stessa cosa di qua, taglio dal vertice alla base e dal vertice alla base dell'altro lato. e stiamo attenti sempre a non tagliare la cucitura. Stessa cosa di qua, tagliare la cucitura, tagliare la cucitura, tagliare la cucitura, tagliare la cucitura. A questo punto dobbiamo risvoltare tutto sul rovescio. Stessa cosa di qua, tagliare la cucitura, tagliare la cucitura, tagliare la cucitura. Ho accorciato sia la parte finale che la parte iniziale. Calcolate che la misura che vi ho dato di 16 cm va dal cursore alla parte questa qui gialla, che è il punto in cui l'ho accorciato, quindi da dove inizia e dove finisce la cerniera, quindi senza considerare le appendici laterali, che tra l'altro ho appunto eliminato. Quindi dal cursore alla fine devono essere 16 cm per la misura della mia borsa. Comunque voi calcolate che deve corrispondere poi all'apertura che voi andate a realizzare. Quindi questa ora è l'apertura. Vedete che posizionando la cerniera, scusate che c'è il treppiedi, mi ostacola e la stoffa che non ci entra. Allora, calcolando che vedete da dove inizia il cursore, che ora si è spostato. Vedete che i 16 cm sono da dove inizia, più o meno finisce, perché qui si intravede, ma noi dobbiamo andarlo a nascondere in questo modo. Quindi ora, molto pazientemente, andiamo a cucire. Con il piedino della cerniera andiamo a fare tutta la cucitura. Da qui scendiamo, giriamo, facciamo tutto il contorno. E andremo così a fissare la cerniera. E praticamente la tasca è terminata, perché poi dobbiamo solo chiudere la tasca. Questo è il rovescio della tasca. Da questo lato abbiamo il dritto. Vedete che abbiamo creato la tasca nascosta. Dobbiamo solo andare a chiudere la tasca. In che modo? Molto semplicemente andiamo a sovrapporre. Vedete che questa è la lunghezza di 26 cm che abbiamo fatto. Perché ora andando a sovrapporre andiamo a fare una cucitura stand attenti a non cucire anche la soffa della fodera andiamo a fare una cucitura su questo lato sovrapponiamo bene questo lato la parte superiore sempre sovrapponendo bene e poi l'altro lato di sotto ovviamente non c'è bisogno quindi si va a fare solo questa cucitura e il gioco è fatto la tasca è terminata vedete ho cucito i tre lati sul dritto abbiamo questa situazione che ovviamente si deve stirare qui abbiamo il cursore si apre e qui c'è la tasca invisibile a questo punto possiamo andare a fare la fodera della borsa così come vi ho spiegato nel video precedente quindi andiamo a mettere dritto contro dritto facciamo le cuciture laterali proviamo prima di andare a fare la cucitura definitiva proviamo la fodera nella borsa per vedere se la misura è quella giusta poi passiamo con la macchina da cucire e alla fine fissiamo la fodera alla borsa io spero che questo tutorial vi sia utile e vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un like e condividetelo e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao